9 febbraio 1969, compie il suo primo volo di prova il Boeing 747, più noto come Jumbo Jet. Si tratta di un quadri reattore che può trasportare fino a 490 passeggeri, con una velocità media di 910 km orari per 10.000 km. All'epoca è il più grande aereo di linea e può essere equipaggiato sia come cargo che come combinazione fra aereo passeggeri e cargo.